ciao da afsim ma se l'obiettivo era il quarto posto perché tutti questi problemi perché tutta questa smania da punti perché tutta questa insoddisfazione questa sofferenza questa delusione è il quarto posto nonostante il pareggio con l'empoli la sconfitta con l'inter la sconfitta con l'udinese e il pareggio con il verona è comunque alla portata anzi è quasi in cassaforte è quasi già conquistato e allora se prima per tutta la stagione per mesi si è parlato di una juve che vinceva non giocava forse benissimo ma comunque vince sì ma intanto vince e quindi ci si aggrappava sostanzialmente ed esclusivamente ai punti adesso vengono meno i punti ma non quelli di prima che rimangono in classifica e allora perché perché tutta questa tutta questa negatività anche da parte di alcuni di alcuni tifosi direi anche molti ma di una specifica parte della tifoseria che appunto fino a questo momento in tutta questa stagione si è aggrappata ai punti si è attaccata ai punti adesso non sa più a cosa attaccarsi evidentemente e ma allora sul piano della prestazione non è cambiato nulla allora tutto quello che hanno provato a vendervi sul miglioramento sul gioco sulla qualità sulla valorizzazione era fuffa era inconsistenza perché se c'era veramente la prestazione e hai fatto i punti con quella prestazione ma non avevi l'obbligo dello scudetto ora perché si parla di prestazione che non c'è in associazione ai punti che non si fanno evidentemente della prestazione non si è mai parlato mi sembra logico rimanendo su un piano razionale e logico che di prestazione non si è mai parlato non si è mai indagato ma solo di risultati di punteggio solo di punti solo di classifica però con un'incoerenza smascherata definitivamente che non era vero che l'obiettivo fosse il quarto posto percepito l'obiettivo percepito poi allegri giunto le possono dire quello che vogliono l'obiettivo percepito da tifosi opinionisti giornalisti commentatori vari si è sempre detto comunque il quarto posto poi magari qualcosina in più qualcosina in più sì se riusciamo a lottare per lo scudetto ma se è un qualcosa in più quando viene meno non hai qualcosa in meno hai perso un'opportunità ma resti allineato al tuo livello al tuo obiettivo allora la verità qual è che probabilmente si sono resi conto tutti nel mentre si facevano quei tre punti tre punti tre punti tre punti che erano quasi tutti immeritati se ne sono resi conto inconsciamente lo sapevano tutti che erano immeritati e allora adesso crolla crolla un po tutto perché quei punti lì non sono stati percepiti come punti fatti veramente come punti conquistati che bella parola conquistati proprio meritati non solo non solo ottenuti conquistati e allora adesso ci si rende conto di quella che è sempre stata ma che è sempre stata la realtà e allora parliamo degli ultimi allegriani rimasti forse parliamo di una situazione che vede addirittura allegri in bilico adesso addirittura allegri in bilico adesso e mi rifaccio al video di balsarini di ieri di commento estemporaneo a caldo post verona juventus 2 a 2 in cui dice una serie di cose l'atteggiamento i giocatori i punti di questa di questi ultimi giorni ma poi conclude con un passaggio chiave e cioè parla di un allegri che ha finito secondo lui secondo balsarini allegri ha finito perché utite udite non riesce più a dare nulla alla squadra non riesce più a fare presa e non ha neanche lui oltre ai giocatori la dignità della maglia se non hai quell'approccio giusto non puoi giocare non puoi allenare la juventus parole di balsarini termine più termine meno parole più parole meno com'è che balsarini all'improvviso si è rivoltato diciamolo chiaramente si è rivoltato allora ha avuto un'epifania si è risvegliato balsarini e come mai se i tre punti tre punti tre punti andavano benissimo e restano e restano non è che adesso la classifica la classifica non si fa sulla media punti di un breve periodo si fa sui punti che hai fatto in assoluto tre punti basta allora prima c'erano i punti c'erano i punti c'erano i punti c'erano critiche illegittime adesso è il primo a criticare dopo un pareggio dopo un pareggio contro il verona fuori casa inaccettabile perché si è perso con l'inter si è perso eccetera ma comunque l'obiettivo sta lì tant'è che lo dice balsarini non c'è tanto il rischio di non andare in champions allora io intuisco che siano state veramente aperte le gabbie veramente aperte le gabbie ma qualcuno è rimasto dentro sono state aperte le gabbie ma qualcuno è rimasto dentro e lo vediamo un attimo chi è che è rimasto dentro perché leggiamo andiamo un po a leggere tutto sport per esempio e quindi c'è addirittura l'ombra di un allegri in crisi e in dubbio e in bilico attenzione un allegri in bilico adesso prima della fine della stagione con il paventato rischio di mancata qualificazione alla champions cioè potrebbe addirittura essere esonerato allegri l'ho detto potrebbe essere esonerato allegri con la scusa diciamo che nonostante i punti nonostante le chiacchiere nonostante le robe le cose si rischia di non andare in champions e allora è meglio cambiare immediatamente per questi ultimi mesi così ci metti magari anche la coppa italia e comunque ti garantisci con una gestione diversa di andare in champions che è una cosa imprescindibile perché senza la champions la juve chiude tutto e cioè poi veramente il ridimensionamento che impatterebbe per anni già adesso la situazione è quella che dico questo perché circolano voci allora io non mi va di fare né l'insider né quello che insomma la sa lunga e ne sa qualcosa in più né di coinvolgere e condizionare nessuno dico soltanto questo dico soltanto questo è chiaro che qui siamo di fronte ad una ad un ambiente risultatista e parlo di giornalisti tifosi e anche la dirigenza e anche la dirigenza perché una dirigenza che eventualmente caccia allegri che attraversa un periodo di regressione nella media e l'avevamo detto vuol dire che si basa solo sui risultati perché il gioco è sempre stato quello i punti erano eccessivi ma lo si sapeva cioè si sapeva che i punti erano eccessivi non è che adesso soltanto perché si pareggia con l'Empoli o il Verona si perde eccetera dice ah allora questo è il reale valore di questa squadra no è sempre stato quello semplicemente sono stati fatti troppi punti prima e qualcuno lo diceva che quelli erano immeritati lo diceva lo dicevamo ma venivamo ostracizzati screditati delegittimati eccetera eccetera e allora che tipo di valutazioni si fanno lasciamo stare però ripeto quello che può essere la valutazione di questa dirigenza e concentriamoci come già ho detto e sto dicendo e ripeterò su quello che è il nostro volere su quello che è la nostra intenzione la nostra volontà e quindi non ci costa nulla non ci costa nulla non costa nulla a voi a chi ama la juventus la ama ancora vuole tornare ad amarla vuole tornare a tifarla non costa nulla a chi vuole il bene della juventus pensare pensare credere credere con fiducia credere con fiducia ogni giorno io voglio un nuovo allenatore credere con fiducia la juventus avrà presto un nuovo allenatore proviamo a scrivere questa frase scriviamola a penna a mano su un foglio oppure facciamoci un appunto magari magari facciamo anche uno screenshot così ogni tanto l'andiamo a visualizzare oppure per chi è vecchio stampo ed è anche meglio la stampiamo proprio appunto la scriviamo a mano direttamente su un foglio e questo foglio lo mettiamo in un posto dove ogni tanto l'andiamo a visualizzare io credo e sono convinto che la juventus avrà presto un nuovo allenatore questa frase formulate la modificatela come volete l'importante è che non utilizzate la parola spera il verbo sperare io credo io ho fiducia io sono convinto io voglio questo che la juventus avrà presto un nuovo allenatore e vediamo che cosa succede non costa nulla facciamolo detto questo quali sono gli ultimi allegriani e qual è la situazione sono state aperte le gabbie la sensazione è che anche dall'interno della dirigenza arrivino certi messaggi perché poi non è neanche tanto i punti la classifica le prestazioni e il rischio di mancata qualificazione la champions league e anche il rapporto con i giocatori perché è chiaro che viene da pensare che dopo verona che i giocatori si siano rivoltati contro io ho un po di ritrosia su questo cioè si può essere può essere che si sono rivoltati contro ma prima di dire i giocatori si sono rivoltati contro ci sarebbe da dire che è l'allenatore che si è rivoltato contro i giocatori ma da te ma da tempo anche quando i giocatori lo seguivano l'allenatore li ha portati sulla cattiva strada ma nettamente e quindi c'è anche quel rischio no cioè che i giocatori non seguono l'allenatore di conseguenza non raggiunge l'obiettivo meglio cambiare prima questa potrebbe essere la valutazione della dirigenza che potrebbe spingere anche qualcuno a togliersi la maschera non tutti però perché troviamo per esempio giovanni capuano su x che ieri dopo la partita scrive al di là dei limiti della rosa primo concetto espresso i limiti della rosa che erano evidenti anche prima quando i risultati arrivavano con continuità quindi i risultati arrivano con continuità però era una rosa limitata la juventus è crollata nel momento in cui si è aperta davvero la finestra per provare a mettere pressione all'inter il cavallo con i paraocchi di cui parlava allegri era la sua squadra non quella di inzaghi e forse le continue battute allusioni sono state un autogol e non un aiuto forse quindi la critica di capuano a cui capuano il massimo di critica a cui riesce a spingersi è forse le battute sono state un autogol cioè non si dice nulla sul lavoro sul gioco sulla sulle prestazioni sul rendimento no tranne limiti della rosa quindi dando ulteriori ulteriori appoggi ulteriori giustificazioni ad allegri c'è neanche qui neanche qui dove il re è nudo dove tutta la realtà si è manifestata per quello che è sempre stata ma non lo si riusciva a vedere perché c'erano i tre punti neanche qui si riesce a fare una critica un po più di contenuto un po più costruttiva nel senso di andare sulla costruzione invece e questa è una critica in realtà è distruttiva questa critica paradossalmente perché non crea nulla non crea nulla nel vuoto proprio nel vuoto e nel nulla cosa puoi creare soltanto fai la valle dell'eco e poi abbiamo per esempio correre dello sport perché ci agganciamo tra poco a quello che ha scritto vaciago su 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 tutto sport invece perché io vedo la prima pagina di correre dello sport oggi e mi piace e mi piace la prima pagina di correre dello sport oggi ma mi piacerebbe molto di più se fosse stata sempre questa la linea e cioè quando non si vince e quando si vince in ogni caso mettere i giocatori in primo piano in ogni caso mettere i giocatori in primo piano invece i giocatori compaiono soltanto quando le cose non vanno bene allora ecco vlaovic ecco vlaovic in prima pagina fatal juventus solo due punti in quattro giornate in zaghi a più 9 con una gara in meno sbanda a verona il 2 a 2 e un altro regalo all'inter l'editoriale di zazzaroni intitolato quando la juve soffre troppo con l'apostrofo tra s e offre complimenti per il titolo e poi in piccolo apre il gol di faloruncio vlaovic fa 1 a 1 sul rigore noslin riporta avanti baroni rabbio evita il terzo ko di fila alle 20 e 45 il milan a monza pioli può soffiare il secondo posto ai bianconeri e al penultimo rigo finalmente piccolo piccolo allegri due punti virgolette bisogna ritrovare l'atteggiamento giusto cioè porta in auge allegri in una situazione del genere allegri cioè allegri chi è allegri è un opinionista lui non è l'allenatore non è l'allenatore infatti non lo dico io lo dice zazzaroni dicono gli altri e poi a proposito sorvolo sul video di sabatini sorvolo sul video post verona di vento di sabatini ma l'avete visto lasciamo stare veramente lasciamo stare ancora con sta storia di allegri out cioè ancora con ma chi ha detto allegri out c'è qualcuno che sta dicendo allegri out ci sono dei tifosi che vanno rispettati ci sono dei tifosi caro sabatini e tutti gli altri che poi guardano i vostri video guardano i vostri contenuti comprano i vostri giornali vi danno vi danno vi danno da mangiare si può dire si può dire che i tifosi di calcio in generale danno da mangiare a chi parla di calcio me compreso me compreso allora ci sono dei tifosi che vanno rispettati che non stanno dicendo allegri out che stanno dicendo non mi piace questo non mi piace quest'altro questo non va bene quest'altro non va bene questo forse va bene ma potrebbe andare meglio sono critiche sono opinioni rispettatele rispettatele basta con questa etichetta allegri out abbiamo smesso di dire allegri out si è smesso di dire allegri out completamente da tempo da tempo si sta cercando di portare finalmente se si può se qualcuno lo consente il dibattito su un terreno costruttivo di confronto di argomentazione e allora la prima pagina di coriore dello sport allegri non c'è cioè allegri non lo so cosa è il guardaline e quarto uomo sta addirittura sta sugli spalti no perché uno che arriva così viene piombato in una situazione del genere legge e dice ma chi è allegri cioè qui io vedo vlaovic inzaghi baroni rabbio vla chi ha segnato quello il verone e poi a un certo punto c'è allegri che dice bisogna ritrovare ma chi è allegri allora è un giornalista allegri forse è un opinionista cioè non è lui l'allenatore com'è come perché è così marginale in queste situazioni e le prime pagine di coriore dello sport con max dappertutto le abbiamo viste le abbiamo commentate nella rubrica non guardate l'allegrentus che ora si chiama propaganda max le trovate sul mio canale c'è proprio il podcast e in settimana facciamo un nuovo episodio dove ci mettiamo anche queste cose ma ho voluto fare una pausa tra tanto calcio giocato per soffermarmi su questo e anticipare un po gli argomenti perché ce n'è da dire e infatti andiamo intanto al giorno prima perché su dj football club zazzaroni con caressa che dicono leggo da arianapoli.it zazzaroni sono stato il primo a parlare della possibilità di un addio di allegri al termine della stagione non gli dispiace lavorare con questa squadra e con i giovani non gli dispiace capito non gli dispiace poverino non gli dispiace ma per il prossimo anno vuole almeno tre giocatori importanti li vuole almeno almeno tre giocatori importanti per il prossimo anno li vuole perché lui non li ha mai avuti giocatori importanti e siccome è siccome è bravissimo è bravissimo lui non dovrebbe avere bisogno di giocatori e di giocatori importanti se è bravissimo ma poi infatti basta sentire come parla allegri basta vedere cosa dicono perciò io dico lasciamoli anche parlare perché quello che stanno dicendo certi tifosi certi giornalisti opinionisti commentatori eccetera poi resta resta tangibile resta materiale resta nero su bianco resta scritto e già adesso ha un significato grave già adesso ha un significato di mettere in evidenza il contrario di quello che dicono figuriamoci tra un po di tempo quante risate ci facciamo a rileggere queste cose quindi allegri vuole almeno tre giocatori importanti allora sapete quando ci facciamo le risate se l'anno prossimo allegri non è l'allenatore la juve non compra neanche un giocatore importante nessuno anzi si va a vendere perché si deve fare cassa e con una rosa depotenziata il prossimo allenatore fa meglio anche in champions league e la si ride però poi lì zazzaroni forse è meglio che resta a commentare i balletti lì però sapatini forse è meglio che si metta a parlare d'altre squadre come minimo se vuole continuare a fare balzarini la stessa cosa magari si potrebbe dare all'ippica perché balzarini è facile adesso ma ne abbiamo già parlato però zazzaroni a dj football club proseguiva sono necessari rinforzi importanti per la champions league e non sono sicuro che la juventus possa permetterse lì il vero il vero errore che riconosco ad allegri è quello di non intervenire sul mercato pensate cioè l'errore non è di non allenare o di allenare male è di non intervenire sul mercato perché interviene troppo poco sul mercato cosa che conte ad esempio non permette conte ma conte se lo può permettere conte se lo può permettere perché conte se gli dai sia conte dai un sasso o gli dai un pollo ecco parlando di polli sia conte dai un pollo te lo fa giocare a pallone te lo fa giocare a pallone non a pollone è un pollo te lo fa giocare a pallone e dopo che ti ha fatto giocare a pallone un pollo conte giustamente dice toc toc io ti ho fatto giocare pallone un pollo adesso me lo compri un giocatore e me lo devi comprare perché io il pollo te l'ho fatto giocare a pallone tanto è che tu adesso il pollo lo vendi e non a 15 euro e 60 c'è una bella differenza zazzaroni e quindi la rosa della juventus è addirittura inferiore a quella del milan ma qualcuno ma qualcuno degli juventini si indigna con zazzaroni una buona volta cioè questi qui stanno tutti i giorni a dire che la squadra fa schifo questi stanno tutti i giorni a insultare i giocatori insultare nel senso di dire che valgono poco i giocatori non dicono nulla i procuratori non dicono nulla i tifosi non dicono nulla e allora non sono né tifosi veramente della juventus né giocatori veramente della juventus né procuratori veramente di giocatori della juventus ditemi se la juventus ha teo hernandez lea oloftus chic rinders no non ce li ha perché non ha valorizzato l'allenatore non ha valorizzato quelli che ci sono e poi c'era caressa che rispondeva ho la sensazione che allegri e la juventus si stiano allontanando questo potrebbe essere l'ultimo anno di allegri con la juve è un pragmatico e per me è un vantaggio perché massimizza il potenziale delle sue risorse tuttavia alcuni giocatori non stanno dando il meglio di sé e dobbiamo chiederci perché è anche qui caressa che dovrebbe mettersi d'accordo con la sua ottima capigliatura tra l'altro tra tutte e due complimenti ma nessuna invita da parte mia per quanto mi riguarda preferisco star così piuttosto che cioè se devo avere quei capelli e pensare queste cose preferisco non averceli perché caressa dice lui è un pragmatico massimizza il potenziale però quindi valorizza sostanzialmente i giocatori però quando alcuni giocatori non danno il meglio lui fa dare il meglio ai giocatori ma quando alcuni non danno il meglio dobbiamo chiederci perché cioè è colpa dei giocatori chiaramente quando lui li valorizza ma lo dicono loro che li valorizza cioè secondo loro li valorizza quindi un'opinione che diventa un fatto è venuto di allegri quando un'altra opinione diventa un altro fatto contrario è colpa dei giocatori e va benissimo però avevo detto dovevo andare su su vaciago allora che scrive oggi vaciago ma che aveva scritto qualche giorno fa oggi abbiamo juve problemi e reazione isterica davvero è solo colpa di allegri cioè questa è questa è la domanda di oggi vaciago si sveglia e dice davvero è solo colpa di allegri la sua unica preoccupazione ma pure ieri ci ha fatto il video sui social come direttore di tutto sport questa è la sua preoccupazione la riordinata tra virgolette serviva dopo san siro punto esclamativo anche rosa e società devono migliorare per tornare ad essere dal top anche rosa e società ma se lo dice vaciago vaciago il depositario della giuventinità in questi anni ci ha ha impreziosito il dibattito con delle riflessioni assolutamente giuventine perfettamente in linea con i valori allora lo reggo proprio tutto quello che scrive sì la reazione c'è stata ma una reazione isterica quella della juventus che più di risollevarsi dalle tre battute dalle tre brutte partite contro empoli inter e udinese ha mischiato agonismo ansia e confusione confermando l'impressione di una squadra che si è persa la juventus può solo aggrapparsi alla forza dei nervi ma ha sgretolato la compattezza la solidità la buona abitudine a non distrarsi tutte cose impalpabili tattica tecnica organizzazione lavoro calcio niente dobbiamo darci una riordinata generale dice massimiliano allegri ma perché nelle ultime tre settimane ma perché nelle ultime settimane tre settimane cosa hanno fatto alla continassa ma perché vasciaco nelle ultime 300 settimane cosa hanno fatto alla continassa cioè che il navigatore della juventus stesse perdendo il segnale si era intravisto contro l'empoli ma proprio intravisto ma 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 solo con l'empoli prima no eh cioè prima si andava alla grande eh ma era chiaro dopo inter juventus la partita che spegneva il sogno scudetto il pericolo era smarrire la rotta ma quale sogno scudetto poi poi lo scudetto la juve non è un sogno non è mai un sogno la riordinata serviva allora oggi due partite un punto dopo possiamo affermare con certezza che non c'è stata sempre sotto attacco sotto titolo allegri è un allenatore costantemente sotto attacco poverino e sai com'è l'allenatore della juventus guadagna un sacco di soldi che che facciamo gliela diamo buona a prescindere come fate voi nella storia della juventus solo giovanni trapattoni ha spaccato allo stesso modo la tifoseria ma erano tempi meno maleducati questi di questi tempi meno maleducati di questi eh la maleducazione eh la maleducazione questi questi disvalori eh vasciaco vasciaco allegri è educato eh allegri è educato eh galeone educato zazzaroni educato tutti gli altri tutti molto educati molto educati il buffo è che nel marasma di critiche che gli vengono rivolte roba per lo più tattica roba tattica di che parla roba tattica ad allegri non venga imputato il fatto di aver perso l'impugnatura della condizione psicologica della squadra perché l'inter non è una squadra abbattibile in questo momento ma l'udinese il verona sì e sarebbe anche doveroso farlo per mille ragioni la più importante delle quali è il rispetto del club e dei tifosi soprattutto se nelle due partite non si è messa abbastanza applicazione quindi quando non si vince non si è messa abbastanza applicazione e vasciaco si permette anche di dire di di non dare credito alle alle critiche ma di dire come si dovrebbe criticare perché il problema non è che si critica ma che non si critica secondo i suoi canoni secondo i suoi parametri questa è un'altra cosa ma quando invece si vinceva non c'era nessun problema d'approccio nessun problema psicologico e nessun problema di rispetto di club e tifosi le dichiarazioni di allegri sono nel rispetto dei club e dei tifosi no siamo noi che siamo maleducati prosegue alexandro la frase che stona ci è mancata la concentrazione spiega alexandro che tra l'altro l'aveva fatto ampiamente capire in campo e la frase che stona nella frase stona un po in bocca uno che prende 6 milioni di euro stagione per mettercela quella concentrazione una volta alla settimana per poco più di un'ora e mezza allora ma se il primo a contestare ad allegri la concentrazione e l'aspetto psicologico e l'approccio è vaciago allora perché vaciago non scrive stona questa frase perché allegri è pagato 7 milioni di euro a stagione per metterci questa concentrazione e il problema diventa alexandro ma perché alexandro è ancora la juve a prendere 6 milioni vaciago lo sa perché qualcuno l'ha fatto giocare troppo la stagione scorsa chi chi è stato no non è stato allegri è stato qualche maleducato sui social chissà se la concentrazione tornerà in settimana e chissà per quanto durerà visto che gli stimoli del campionato siamo seri sono e no non sono enormi non sono enormi visto che il quarto posto è blindato il quarto posto è blindato quindi non sono tutti d'accordo su questo vaciago dice di sì riuscirà questa squadra di rimettersi riuscirà questa squadra di rimettersi insieme moralmente riuscirà a questa squadra di rimettersi insieme moralmente a riaccendersi dopo essersi spenta incredibilmente nel momento dell'espulsione di milic contro l'empoli si è spenta nel momento dell'espulsione di milic non perché allegri non ha saputo ovviare ad un'inferiorità numerica insomma quando torna la juventus quella vera una squadra che non ha mai scolpito calcio artistico calcio artistico ma non è neanche scolpito calcio ma non è neanche fatto calcio ma neanche scolpire già sarebbe tanto ma è sempre stata granitica nella sua etica agonistica l'etica agonistica è davvero solo un problema di allenatore come sostengono i no max euforizzati dalle ultime quattro orribili partite ma riscriverlo senza piangere mi viene da dire cioè è solo un problema di allenatore ma perché c'è qualcuno che dice che è solo un problema di allenatore e quanti sono quelli che dicono che è solo un problema di allenatore ormai io penso che tutti quelli che dicono anche allegri out che se ne vada allegri sono consapevoli che poi ci sarà un problema di giocatori di giornalisti e di tifosi da ricostruire tutto da ricostruire tutto allora questo giochino non è solo colpa di allegri o non è proprio colpa di allegri è andato avanti talmente tanto talmente oltre che ormai che ormai effettivamente si sono fatti talmente tanti tanti danni che il problema non è più allegri non è più allegri ma inizia a essere vaciago per esempio inizia a essere tutto sport e tutti gli altri opinioni se possiamo esprimere delle opinioni che però non rendiamo fatti non trasformiamo le opinioni infatti e quindi euforizzati da queste ultime quattro solo queste qua sono state orribili perché prima quando si vinceva la prestazione non si guardava ma se Kostic sbaglia passaggi di tre metri se Gatti vive almeno una volta a partita surreale amnesia calcistiche e la passa agli avversari se Rabiot uno dei pochissimi giocatori di livello internazionale della Ross pochissimi vive un fisiologico calo di forma se i ragazzi dal sicuro avvenire come cambiaso Ildis per esempio non sempre riescono a caricarsi il peso della squadra sulle loro giovani spalle che colpa ne ha allegri cioè ha scritto questo voi avete capito io sto leggendo eh allora non penso che ci sia un problema di pixel del mio schermo o di dati della pagina web che esce solo a me così andate a controllare ha scritto questo che colpa ha allegri se Gatti sbaglia i passaggi Kostic sbaglia i passaggi le amnesie rabbio è in calo i giovani non si possono non si portano la squadra sulle spalle che colpa ne ha allegri nessuna perché infatti non ha nessun merito non ha nessun merito non ha mai avuto nessun merito neanche nei cinque scudetti neanche nei cinque scudetti e diciamolo una volta per tutte così siamo tutti d'accordo siamo tutti d'accordo allora che dice Vaciago non ha colpe non ha colpe perfetto siamo d'accordo ma non ha mai avuto meriti allora e quindi togliete la celebrazione delle 405 panchine quella grafica orribile con lui con le mani in tasca tanto per cambiare con tutti gli con tutti i trofei sotto smettiamola di scrivere max di qua max di là smettiamola di delegittimare chi critica chiamandoli no max e cioè vabbè andiamo avanti per concludere questo meraviglioso editoriale poi c'è quell'altro tornare a essere Juve d'altra parte se la squadra avesse un impianto uno impianto se avesse uno impianto uno impianto di gioco più definito punti di riferimento tattici meno vaghi non sarebbe costretta a improvvisare perché un conto è improvvisare con Pjanic che tira Daniel Vesiguain e Dybala un altro è chiederlo ai ventenni poi chiusa parentesi così parentesi a caso un altro è chiederlo ai ventenni con cui la Juventus sta cercando di costruirsi il suo destino quindi avete capito qui la descrizione dei cinque anni di Allegri dei precedenti cinque anni di Allegri improvvisazione con i campioni lo dice Vaciago allora siamo tutti d'accordo la Juventus oggi ha problematiche complesse la Juventus ha un problema di qualità media della rosa qualità media della rosa che è un po' un modo più elegante di dire quello che dice Zazzaroni cioè Capuano limite della rosa rosa limitata la Juventus potrebbe senza dubbio esprimersi meglio tatticamente che non vuol dire più bella ma più efficace ma infatti lo vuol dire più bella più efficace se è sempre detto questo se è sempre detto più efficace lo dico dal 2017 più efficace e quindi non più bella poi se sei più efficace sei anche più bello ma non c'è niente di male al chiedere nel chiedere la bellezza porca miseria non si può chiedere la bellezza ma dove viviamo la Juventus ha una dirigenza che l'anno scorso ha dovuto gestire una guerra e oggi deve riordinare le macerie il che distrae dall'aspetto sportivo la Juventus può e deve migliorare su si tutti si tutti e tre i fronti per tornare a essere la Juventus intanto suggerisco di rileggere meglio la prossima volta prima di pubblicare e poi però il 17 febbraio quindi ieri alle 10 e 43 sempre Vaciago dal titolo la Juve e il giorno social di Allegri Mario Mandzukic lacrime e no max un'altra volta un'altra volta ieri è andata in scena la strana giornata social del tecnico bianconero tra furia dei critici e vecchi amici scriveva non è frustrante non vincere da mille giorni così Allegri ha scatenato un inferno che il gladiatore in confronto era un capovillaggio d'altronde l'esercito dei no max è particolarmente infiammabile ma il problema è l'esercito dei no max non è questa frase vergognosa poi Vaciago ci viene a parlare di identità ci viene a parlare di storia no il rispetto per i tifosi il rispetto per il club per il club il primo a non portare rispetto per i tifosi è Vaciago che si permette di etichettare in questo modo una tifoseria che legittimamente fa notare che questa è una frase anti juventina anti juventina anti juventina Allegri è un anti juventino Allegri è il più grande anti juventino della storia della Juventus più di Moratti ok dopo le due sconfitte il ritorno dell'apatia agonistica che ha anestetizzato l'orrida partita contro l'udinese niente di nuovo per carità ma stupisce sempre un po vedere come un allenatore riesca a catalizzare così tanta attenzione e spaccare in modo così dialetticamente violento una tifoseria come se tutti i problemi o tutte le soluzioni di una situazione complessa come quella della juventus veramente complessa passassero solo dall'uomo del gabbione nell'irreale mondo dei social network dove tutto sport continua a pubblicare quindi tutto sport ha scelto di vivere in un mondo irreale talmente irreale che scrivono che pubblicano sui social addirittura si mette anche a fare i video Vaciago la vivono più o meno così e ma anche questa non è una novità si fanno prendere la mano da un odio e un astio verbale così feroce che fa anche un po schifo ma è chiaro che l'odio l'astio verbale fanno schifo ma non c'è solo questo allora che cosa fa schifo fa schifo etichettare tutto come se fosse un'unica cosa disconoscendo le differenze e quindi mancando di rispetto alla complessità vedete il giochino non si deve criticare solo allegri perché la situazione è complessa e allora uno potrebbe dire non si deve dire che sono solo degli odiatori a criticare perché la situazione è complessa vedi che vedi che le cose si smentiscono da soli perché la critica un allenatore è uno degli elementi più gustosi e legittimi del dibattito calcistico ma l'imbarbarimento che ha degradato il confronto nel mondo giuventino rende difficile proporre un ragionamento in cui distribuire le responsabilità e i meriti di questa altalenante stagione bianconera e conclude che tra l'altro sono andato anche troppo lungo la festa social delle 405 panchine la cosa buffa dei social è che mentre in certe stanze autoproclamati si giudici della juventinità tipo tipo tutto sport celebravano un processo sommario rievocando boniperti l'avvocato il cui allenatore più vincente era per dire giovanni trapattoni che c'entra in un universo parallelo ma a portata di click di di click portata di di click io sto ancora cercando un articolo di tutto sport senza un errore ancora non si trova andava in onda alla festa per le 405 panchine organizzata dalla juventus per allegri invitando buffon chielini 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 ha scritto barzagli marchisio rabbio matri matuiti scesni chedira rugani de ciglio pianis e mangiucic a mandare un video messaggio al tecnico allora io ribadisco dove dove bonuccio e dove di bala mi fermo a questi due dove bonuccio e dove di bala che poi hanno messo su una poltrona ad ascoltarli e così alla finestrella del video sono sbordati l'orgoglio e lo spirito della juventus dei nove scudetti costringendo dei nove scudetti quindi anche quello di sare anche quelli di conti costringendo allegri a trattenere le lacrime davanti al messaggio di mario mangiucic in inglese uno dei figli prediletti di max commosso dai ricordi umani e forse anche dalla nostalgia di quando facendo la formazione poteva scegliere anche uno come il croato e avete capito cioè questi fanno schifo questi qua di adesso bravi ci fa schifo questo si dice si legge tra le righe o capisco male io dov'è il rispetto per i giocatori e poteva permettersi il lusso di non farlo sempre capito così è vissuta la strana giornata social di allegri in cui c'erano degli smartphone che vomitavano odio e altri che trasmettevano affetto e amicizia tutto nello stesso tempo a conferma che quel mondo lì quello virtuale dei social forse non è da prendere troppo sul serio come non è da prendere troppo sul serio tutto sport e neanche vaciago perché se c'è una cosa che fa un po schifo è proprio questa questa lottizzazione cioè proprio a suddividere in lotte suddividere in sette in settori e quindi settorializzare ma anche in sette proprio tutto tutto quello che si vede e quindi e c'è la maleducazione c'è la maleducazione c'è l'odio c'è la maleducazione c'è l'astio e non c'è non c'è costrutto non c'è costruttività non c'è argomentazione non c'è confronto non c'è dibattito sereno no non c'è non c'è mai stato e invece è da quest'altra parte che c'è sempre stata questa demonizzazione e i tifosi lo sanno bene i tifosi lo sanno bene i tifosi lo hanno capito lo stanno capendo perché guardano i video leggono gli articoli seguono i post e l'idea se la sono fatta e quando l'anno prossimo vaciago dovrà dialogare vaciago tazzaroni capuano sabatini caressa dovranno dialogare anche balzarini e tanti altri con gli stessi tifosi che oggi vengono etichettati per essere no max odiatori come faranno a chi si rivolgeranno a chi cercheranno di vendere copie e far vedere video perché la mancanza di rispetto potrebbe anche non essere dimenticata quindi ognuno sta scegliendo poi quello che è diciamo il suo destino o il suo futuro attraverso il presente ma proprio per chiudere visto che tra i cosiddetti odiatori no max sono sempre stato individuato pure io e magari anche meritatamente ribadisco ribadisco che dobbiamo fare un gesto d'amore d'amore credendo con fiducia con pace interiore con serenità che la juventus avrà presto un nuovo allenatore e accadrà grazie per la vostra attenzione buon dibattito ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie ecco Grazie.